Cameriere E' proprio un piatto di fagiolini a lucelleco Subito si ha Cameriere Si Ma questi pesci sono vivi Adesso sono morti, ti puo' mangiare tranquillamente Cameriere il conto Subito si ha Dunque lei per primo ha mangiato bucatini alla mattrecciana Si ma soltanto i buchi Il dottore mi ha ordinato di stare leggero Per secondo invece lei ha mangiato osso buco Si ma solo il buco Come formaggio ha mangiato sette buchi di groviera Per l'appunto Ecco Cinco mila Venga Zia Bastogno Cameriere Si Questi soldi sono falsi Si signori i soldi sono falsi ma il buco è buono Cameriere Arrivo volando Allora li porta o non li porta i fagioli all'uccelletto? Già fatto signora Li ha mangiati di gusto Anzi l'uccelletto mi ha detto di ringraziarla moltissimo Ma cosa dice? Scusi lei non ha detto di portare i fagioli all'uccelletto Si Cameriere sono tre ore che aspetto insomma Ecco il manzo poco cotto Mi sa che sia un po' troppo poco cotto Cameriere Ma lo sai che mi fa pena vederla correre da un posto all'altro come un forzennato Si Ma certo E poi non vede com'è accaldato Moversi va bene si espellano le tossine E poi Visto la maglia Movimento, 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 movimento Movil Movil La maglieria della salute Così pratica Si lava a parte in acqua fredda Con detersivo E volendo con candeggina Non si strizza Asciuga rapidamente in casa E non si deve stirare Così la maglia Movil Sarà sempre candida e perfetta La maglieria Movil E' anti reumatica In vendita a prezzi controllati Nei negozi che spongono questa insegna Movil E' un prodotto Montecatini E' un prodotto